Signori, buongiorno, 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 benvenuti a un altro episodio della Road to Diamond 2016 che porterò sul canale YouTube. Non voglio nient'altro dirvi che questa partita giocherò Gianna, una partitina che ho fatto sempre la settimana scorsa, l'elo era più o meno intorno a Platino 3 e Platino 2. Rispondendo a Daiken, che mi ha fatto un commento l'altro giorno sotto il primo video, ci terrei a spiegare una cosa. Mi ha scritto, ma che senso ha fare una Road to Diamond se con Opera 6 Platino 1? Il punto primo è che, diciamo che per come funziona Skin Spotlight, non ho l'opportunità di fare quello che vorrei. Perché tante partite che ho giocato dal Gold 3 fino al Platino 2 sono andate perse, perché ogni due patch fanno un aggiornamento. Cioè ogni due settimane fanno una patch, scusate. E ogni volta che fanno una patch, Skin Spotlight non funziona più con i video precedenti, quindi non riesco a riutilizzarli. Ed è il motivo per il quale ho utilizzato solamente i più recenti, che sono quelli da Plat 3 a Plat 1. Inoltre, non so quanto tempo ci metterò a fare il Diamond, perché sinceramente con il lavoro e tutto non riesco a giocare più di tanto. E inoltre, non è detto che io mi debba fossilizzare solo su questo account, avendo ancora il main da riportare in Diamond. E volendo, ho ancora il terzo account che è Draker88v2, volendo ci sarà l'opportunità di continuare la serie su altri account. E bene o male, non credo proprio che la gente la segua solo, perché ti insegna a passare dal basso al Diamond. Cioè non cambia niente, io cerco di fare i video consigli utili, cercano di aiutarvi. Comunque, vi volevo ringraziare tantissimo per il like che avete lasciato allo scorso video, quindi vi invito a farlo anche per il seguente se volete supportare questa serie. Questa serie ci sarà tutte le settimane di lunedì. E ora direi di ripartire. Siamo Elaine, Gianna, Caitlyn contro Lucian e Alistar. Avete visto che ho utilizzato immediatamente un Exhaust. Il motivo principale è perché sono convinto che Lucian possa distruggere Caitlyn in serie e fare la sua rotation. Cioè spell, auto, attack, spell, auto, attack. Molto, molto standard come cosa. Però questa cosa infatti dice un po'. C'è da dire che però, da parte nostra, abbiamo un po' un vantaggio. Nel senso che Caitlyn è molto buona per quanto riguarda l'early game. Dall'altra parte abbiamo Lucian, che bene o male, diciamo, perde un po' per il discorso range. Come vedete io cerco di arrasarlo cercando di intanto colpirlo con un auto attack. Poi appena vedo l'animazione di Lucian che tenta di attaccarmi, allora attivo lo scudo su di me in modo tale da assorbire il danno, ottenere attack damage bonus, ricolpirlo di nuovo. Nel mentre che lui si accorge che gli conviene chiudere il trade si allontana, lì do la terza hit. Questo è anche buono per, in generale, riuscire in qualche modo a dare un minimo di presenza in lane, cioè come support non dovete essere troppo passivi. Stavamo parlando comunque di Alistar e Gianna. Gianna ha l'opportunità di interrompere qualsiasi abilità. Gap closer. Una mossa gap closer di solito è tipo la E di Xinjiao, avete presente? Cioè punti su un target, ti lanci addosso e gli salti appunto a cappuccio. Ecco, Alistar praticamente fa la stessa cosa con la sua combo WQ, la stessa cosa la fa Jarvan con la combo Stendardo Lancia e via dicendo. Quindi c'è un modo per poterlo interrompere, ma come avete visto qui non ci sono riuscito. Cioè, praticamente consiste nel tirare due volte velocemente la Q, attivando due volte ripetutamente il tornado, si lancerà il tornado nella direzione da noi scelta. E questo ci permetterà di andare proprio a interrompere qualsiasi spell tenti di aiutare l'avversario ad avvicinarsi a noi. Anche la W di LeBlanc si è usata bene. Solo che è molto molto ristretto perché dovete avere un tempismo perfetto. Solitamente più che guardare l'animazione perché non fate in tempo a tirarla, vi conviene giocare d'anticipo. Quando vedete che probabilmente ingaggerà, tirate due volte la Q velocemente. Parliamo un attimino di Gianna per quanto riguarda rune maestrevi, voglio dare due dritte durante la parte iniziale. Questa è una partitina molto veloce che avevo giocato l'altro giorno, però vi voglio dare due dritte. Allora, su questo account non ho tante rune, quindi sto usando una pagina che fa molto schifo. 22 armor, 12 magic resist e 72 HP flat. Quindi sono rossi e quintessence armor, gialli HP flat e blu magic resist. Ocio qui che vedete, cerco di usare il tornado per interrompere sia il tentativo di Gangredd sin sia Alistar. Riesco a locare entrambi. E qui guardate, Lucian, dopo che ci insegue per far danni, noi continuiamo a punirlo perché continuiamo a inseguirlo per tirare gli auto-attack. Dicevo comunque, tornando al discorso rune, solitamente su Gianna mi piace giocare. Un setup del genere non mi dispiace. L'unica cosa è che magari... Che poi scusate, ho detto una cavolata. 22 armor, un... Ok, fermi 22 armor, 12 magic resist. Ok, fin qui ci siamo. C'ho anche un'altra pagina. In passato mi era capitato di giocare con Gianna la stessa pagina di rune ma con i rossi a D. Funziona in early game ma pigliate grossi schiaffi. Solitamente, se posso, gioco rossi armor, gialli HP flat, blu magic resist e quintessence smooth speed. Questo per andare ancora più in energia col champion che ha extrema mobility. Parlando invece delle maestrie, conviene nettamente andare a fare la 0 18 12. Per avere il punto sulla keystone, sulla maestria che ci permette di ampliare, diciamo, del 10% le cure nostre. E fornire uno scudo extra a tutti quelli che andiamo a scudare. Sta cosa è molto forte anche con Gianna stessa. Tant'è, 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 che conviene veramente tanto. Intanto guardate come Shyvana con una bella counter gank riesce a contrastare quello di Sin come gank. Io faccio un flash due volte Q velocemente per cercare di sbalzare Alistar in aria permettendo a Shyvana di avvicinarsi al target. E in qualche modo a Kayden di poter fare DPS. Infatti ci pigliamo la kill e siamo tutti tranquilli. Allora, le maestrie ne abbiamo parlato. Ora cerchiamo un attimino di spiegare un pochino la build. Io durante la Road to Diamond non vi voglio solamente far vedere azioni di gioco o commentare per forza la partita. Ma voglio sfruttare l'occasione per darvi qualche consiglio. E il consiglio che vi vorrei dare in questo caso è Solitamente con Gianna si parte con lo Spell Stiff Edge. Cioè l'oggettino da support blu, quello che dà AP. Perché? Perché attualmente in questa season è molto forte. È utile per disingaggiare, è utile per ingaggiare. E bene o male dà anche Vision. In questa partita ho optato per la moneta che non buildo mai su Gianna per un unico motivo. Perché contro un team composto da Lesin, Raids, Galio e Alistar Sinceramente mi sento più tranquillo ad avere un oggetto che mi permetta di dare un sacco di escape al mio team E inoltre che mi permetta appunto di o ingaggiare o disingaggiare quando voglio. Certo, solitamente per ingaggiare conviene comprare l'oggetto Gloria del Giusto In inglese Rides' Glory Però, però non è sempre detto che se ne abbia l'opportunità Anche perché su Gianna ci sono oggetti molto più forti Poi parlando di build ci sono svariate cose che possiamo andare a fare Una di queste è per esempio lo Zack Herald Si tende a fare quando abbiamo una di Kerry Che può sfruttare molto bene il crit Perché magari builda un sacco di danno E è un oggetto molto orientato all'utility Però devo essere sincero non lo buildo quasi mai Perché tendo a fare altri oggetti Per esempio se hanno tanti danni ad area ovviamente solari Per esempio in un team contro Rides, Galio e in parte Alistar Volendo anche Raid e Resin e danno magico Diciamo che hanno 4 personaggi su 5 che fanno del danno magico Quindi il solari è un oggetto che mi piacerebbe davvero andare a comprare Inoltre solitamente mi capita di finire a fare il Frozen Heart Sapete ormai io sono dipendente dal Frozen Heart Ma credo che un oggetto che ti dia armor, mana e in più Non capisco perché ci sono i suoni un po' a cavolo Mi sta venendo da ridere, scusate Un oggetto che comunque ti da armor, mana e cooldown reduction Poi 20% su Gianna è fondamentale Chiaramente un'altra cosa che vi consiglio potrebbe essere il Mikael Crucible Cioè il crogiolo di Mikael, non mi ricordo in italiano com'è Ma è molto forte, praticamente è un oggetto che vi da Magic Resist E in più vi da l'opportunità di curare un personaggio in percentuale Che è fortissimo perché se curate un tank lo curate di più Cioè lo curate allo stesso modo in maniera efficiente su tutti i champion Che sia un tank, che sia un carry Voi curate sempre un buon quantitativo di vita E in più va a rimuovere tutti i crowd control Compresa la ulti di Mordekaiser, la ulti di Vladimir, la ulti di Zed Dal target su cui l'abbiamo utilizzato Quindi se abbiamo contro uno Zed e vedete che non vi caga E butta sempre la ulti sul carry Beh, usate il Mikael Crucible e cercate di togliere, rimuovere direttamente Questa, diciamo, debuff da parte di Zed verso il vostro carry Allora, adesso parliamo un attimino della partita Avete visto, nella fase iniziale è stato abbastanza tranquillo Facciamo svariati poke, abbiamo subito due gank andate per fortuna nostra In buon senso, nel senso che siamo riusciti a scappare due volte su due Quindi va benissimo In realtà tre, perché è avvenuto pure Galio Bot E quindi adesso riprendiamo un pochino la fase di linea Attualmente siamo a buon punto perché, come potete vedere Abbiamo praticamente sia Lucian Fermi che il sistema Diciamo, Lucian è indietro di una wave Che non è tanto, però Caitine ha una kill in più E a questo punto della partita con una BF e una Zial Già inizia a fare i suoi danni Io qui cerco di utilizzare la Q principalmente per danneggiargli Aversari dargli fastidio, non per grandi motivi Solitamente quando si ha lo spell stiff edge Cioè l'oggettino blu da support Conviene un sacco cercare di sfruttare a volte L'autoata che se loro tentano di ingaggiare Bloccarli col tornado e dargli un'altra auto attack Per cercare di caricare la passiva Che ci dà gold Vi ricordo che l'oggettino dice che ogni tot secondi Se attaccate un champion vi va a fornire dei gold Riprendendo adesso quattro Poco c'è una azione interessante Ovvero cerco di far saltare Lucian Per farlo sbalzare in aria Permettendo a Caitine di raggiungerlo Infatti attivo la W Che dice Colpisci un target Lo rallenti Tu perdi Muspid Perché diciamo perdiamo il famiglio E una volta fatto tutto rallentato Cerco di allontanare Alistar con un flash ulti E allo stesso tempo lanciare Il più vicino possibile Lucian A Caitine Anche se in realtà la mia Caitine è in mezzo a una minion wave Alistar non dovrebbe riuscire in qualche modo a proteggerla Io avevo pianificato che lei riuscisse a ucciderlo tranquillamente Infatti riesce a farlo Alistar tenta la combo off Caitine flasha E qui Signori c'è un'altra kill Le inculo tutte oggi No vedete bene che in questa partita Anche se non intenzionalmente me ne scappano veramente tante Allora ho subito comprato La moneta L'ho completata Sidestone, scarpette Non ho ancora le scarpette Da Muspid Completate Però vado un attimino in giro Vedo un Rales che si affaccia Ovviamente contro Rales non voglio andare ora come ora Ci rimettiamo solamente a Diciamo Rimuovere Pink Io adesso Quello che cerco di fare in questa partita È dare supporto ai miei compagni Per non farli ingaggiare brutalmente Dal team nemico Gianna è molto forte per il disengage Quindi Se via via mi vedete spigliare i minion mid Non è che lo faccio apposta Ma io sono tipo una casalinga frustrata Quando Devo comprare gli oggetti da support E Non li ho Mi metto a farmare Quando vedo che nessuno ha nella zona Allora Lysin aggredisce brutalmente Caitine Lo riusciamo a uccidere Perché Nel mentre io tiro due volte il tornado Lysin parte in aria Vola in aria E Caitine carica la Q In quel momento Quindi riesce a assicurarsi lo schizzo E te lo prendiamo Il drago Allora Voi quando giocate support Dovete ricordarvi Che spesso Se ne avete l'opportunità Se avete veramente vinto la lane E non Abbiamo uccisi una volta Loro ci hanno ucciso una volta E poi ci siamo riuscisi No Dovete aver proprio vinto la lane A quel punto La cosa fondamentale Per vincere È fare roaming Roaming Significa andare in giro Nella mappa Solitamente si tende a fare Per dare un po' di vantaggio Ai nostri compagni Oppure per dare effettivo supporto Vedete che io tendo ad andare molto in giro Per cercare di vedere I punti chiave Dove solitamente Tendono a wardare E dare quindi modo al mio team Di mettere parecchia pressione Sulla parte bassa Nella mappa Adesso regoliamo Guarda comprami le scarpette da 5 E come potete vedere Ho comprato Null Magic Mantle E Kindle Gem Scusate non Kindle Gem Ruby Crystal Per cercare di andare a fare Il Solario Comunque la Aegis Qui utilizzo subito la moneta Per cercare di dare un po' di velocità A Caitlyn Rivediamola Vedete ci buttiamo un po' sull'usia Poi vale a vedere se ci sono ward Quando vedo che non c'è nessuno Moneta Cerco di dare moon speed bonus Per cercare di far Avvicinare Caitlyn a loro Cerco di colpirli Con il tornado Una volta che entro il range Riesco a prendere entrambi E Caitlyn ha modo di fare un po' di DPS Come potete vedere Utilizzo lo scudo su Caitlyn Perché lo scudo di Janna È tra gli scudi più utili del gioco In quanto ci permette Non solo di scudare Ma ci permette anche Di offrire attack damage bonus A tutti quelli che andiamo A colpire Io adesso vedo che Lucian Tira la ulti a Caitlyn E ho cercato di utilizzare La mia ulti per curarla Però in realtà Lei si è messa A prendere i colpi Della ulti di Lucian E non era nel range Della mia ulti Quindi è stata una ulti Un po' sprecata Qui parte il dive brutale Galio riesce a tentare Ari e Naughtry Sotto torre Qui è il caso di andarcene Di fare proprio come baglioni E qui siamo in una fase Un po' di stallo Perché alla fin fine Sono 4 mid Abbiamo Shyvana Che sta andando praticamente A rubare la giungla nemica E poi a split pushare In bot lane E quindi cerchiamo In qualche modo Di stallare Io ovviamente Non voglio perdere tempo Quindi cerco di Appena possibile Cerco di dar una mano Noi compagni Uscidiamo Galio Molto velocemente Perché ripeto Potete vedere che Avendo tenuto un bel vantaggio Avendo una kating Con due oggetti completi Praticamente la partita Si gioca da solo Voi quando giocate Gianna Dovete fondamentalmente Cercare di carriare Chi vi carrierà Cioè se voi fate vincere L'early game E poi proteggete Durante il mid E l'early game Il tizio Praticamente Che state carriando Perché gli fate carriare Voi nella laning phase A quel punto Lui vi carrierà E quindi Lo scopo del support Utility Solitamente Proteggo Il tizio Che mi porterà Alla vittoria E a volte sta a voi Identificarlo Non è detto che sia Sempre la di carry Però ne riparleremo Magari in altri video Per contazione di Inizialmente parlare Di support In questa Road to diamond 2016 Anche perché In passato Ve l'ho proposta Solo come jungler e mid E pochi contenuti Da support Però fondamentalmente La gente mi seguiva Per quello Allora Qui c'è un team fight Del cavolo Qui potete notare Come il mio Bad positioning Ripetiamolo Perché voglio farvi vedere Un attimino Cosa intendo Guardate Dov'è il team nemico Noi siamo qui Il team nemico è qua Io cosa vado a fare Mi vado a posizionare Malissimo Cioè mi metto Praticamente Tra 4 target Ah non riesco neanche A mettere in paro Vabbè Lo otterremo al minimo Cioè mi sono messo Tra l'uso E analista Lissin E Rise Lissin Si connette Con l'accuso di me Perché torno indietro Perché c'è un motivo Praticamente voglio farvi capire Un po' come funzionano Anche i vari knockback Non per tutti sono chiari Come meccanica Spesso possono essere utilizzate Anche per interrompere Effettive mosse Non è solo la Q di Gianna Un buon strumento Per cercare di interrompere Ma anche la ulti Perché come potete vedere Non mi danneggia nemmeno La uso nel momento esatto In cui lui Avrebbe dovuto colpirmi Lui viene scagliato indietro E questo forza Un disengage Molto pesante Qui Galio Riesce A tauntare Ari Giustamente Muore per i danni Inflitti Da L'apparicamento L'Awe di Shyvana Che sta facendo una strage Notare io dove sono A fare i cavolacci I miei Avrei tipo potuto salvarla Molto di più Invece niente Invece torno lì Per dare una mano Giusto per rubare una kill No a parte le cavolate In realtà non ci aspettavamo Un 1 contro 4 Quindi è stato molto divertente Perché ho piazzato la ward Abbiamo visto l'esigno Ho interrotto le call Con il tornado di Gianna E Katyn l'ha finito di ulti Allora quindi Quello che vi voglio far capire È che spesso Un support Non deve essere giocato In maniera Troppo aggressiva Spesso deve essere Un buon compromesso Tra arrasare l'avversario Quando è possibile E non si corrono gli ischi E giocare molto molto difensivi Per proteggere il proprio carry Cioè solitamente Conviene veramente tanto Aiutarlo A fidarsi in early game Per poi appunto Avere un mostro Che ti carria Dopo avete visto Katyn adesso Allusion l'ha tolto Non so quanti HP Con una combo E lo ha completamente disintegrato Qui facciamo un'altra call Del Drake Ricordatevi Quando prendete un obiettivo Tipo una torre Valutate quanti siete Valutate quanti sono morti E da quanto tempo sono morti Se vedete E questo ve lo dirò sempre Vi romperò le palle Ma dovete capirlo Piuttosto che una kill Conviene Un obiettivo Quindi se Fate una gank bot Ricolla una due di vita Non è una brutta gank Chiamate il drago Chiamate il drago O voi al vostro jungler O spedete se il jungler Lo vuol chiamare Cercate di far gioco Di squadra E prendete gli obiettivi Il drago Come le torre Sono obiettivi fondamentali Non so perché Stessi in qualche modo Inquadrando Caitlyn Quindi riprendiamo Un attimino con la telecamera Su di me In botte Vediamo che Io sto praticamente Costeggiando Galio Che vuole andare incontro A Ryze Io cerco di tirare Un'auto attack A Ryze Ryze perde un po' Di vita contro Ari Il mio auto attack L'ho la stitta Le cinci saluta Alistar Fa la sua combo A poco Distante Dalla torre E io cerco di allontanare Il più possibile Galio con la ulti Però alla fine Non riesco Vengo comunque colpito Galio riesce a rientrare Lo uccidiamo Perché abbiamo un sacco Di danni Riprendo la ki Perché le sto rubando tutte E qui pushiamo Per finire la partita Quindi quello che volevo Dirvi con questo piccolo video E intanto Vi voglio ricordare Che quando avete dei dubbi Su dei support Vi invito veramente tanto A scrivermi nei commenti Qui su youtube E nel caso Se vedete che non vi rispondo Di iscrivermi su facebook Dove sono certo Al 100% Di ricevere notifiche Inoltre Vi vorrei ringraziare Ancora tanto Per avermi supportato Per il video precedente Perché ho piacere Ma in generale Con questo video Volevo cercare di Intanto portarvi Gianna Perché ho visto Che era stata richiesta E farvi capire Che per me Potete consigliarmi Tutti i champion Che volete Quindi Quello che potete fare È Commentare nei commenti Beh Grazie Commentare nei commenti Va bene Lasciate un commento Con scritto Il champion Che vorreste farmi giocare Al prossimo episodio E io Tutti in un'edì Vi porterò Un champion Diverso Comunque spero Un champion Sempre un support Ripeto Non so se riuscirò A variegarli così tanto Perché adesso Che ho ripreso a giocare Dopotanto Non lo so Però ci voglio provare Detto ciò Vi ringrazio ancora Lasciate un like Se questo video vi è piaciuto Volete supportarlo E chissà Magari questo video Lo vedrete domenica Cioè fondamentalmente è così Voi lasciate un like al video Io sono contento Io sono contento Drekker contento Fa altri video Faccio altri video Voi siete contenti Lasciate un like Io sono contento E faccio altri Fondamentalmente è una catena È un modo di darsi una mano Quindi Dal momento che è una cosa Che mi gratifica Sapere che tot persone Abbiano apprezzato Un mio contenuto È tutto quello che vi chiedo Quindi sperando di avervi In qualche modo Consigliato Fornito Contenuti utili Vi auguro una buona giornata E alla prossima Ciao Ciao